sono veramente sterrefatto ragazzi e sterrefatto per il secondo anno consecutivo perdiamo fuori casa la prima di campionato siamo andati alla daccia arena a fare una prestazione di schifo di schifo siamo andati a fare una prestazione udinese che vince 1 a 0 con colpo di testa sul calcio d'angolo di becao chi è che non sa manco chi sia che alla prima partita giocata con l'udinese in casa ci fa gol ci fa gol avete capito ci ha fatto gol questo di qua ragazzi ci sono 11 giocatori in sta squadra che non dovrebbero neanche toccare quella maglia con le mani o almeno forse non tutti ieri sera abbiamo avuto 11 11 11 schiappe in campo abbiamo avuto 11 schiappe in campo e ancora una volta mi ritrovo a sbottare contro cialanoglu ma cosa ci fa cialanoglu in campo tutte le partite cosa ci fa cialanoglu questa squadra rimandatelo da dove è venuto dove era ad hamburgo ma adesso non mi ricordo forse ad hamburgo era ma prendetelo e mandatevelo fuori dalle scatole via io questo turco non lo voglio vedere più con sta maglia basta basta anche suso ha fatto una prestazione di schifo anche suso ha fatto una prestazione di schifo ma cialanoglu ancora peggio cialanoglu ancora peggio io volevo vedere titolari subito ben naser che ne so chi so ancora la leo duarte la come come cazzo si chiama adesso non mi non mi non mi ricordo e invece ho visto partire la stessa formazione dell'anno scorso giampaolo l'hai steccata tu l'hai steccata tu visto che hai detto di voler abbandonare il 4 3 1 2 fai bene passa il classico 4 3 3 sì è vero ha toppato che sì messo al posto di borini a partita in corso vero giusto però hai hai azzardato a far giocare quel quello sputo turco e non voglio che ogni volta che lo vedo titolare ogni volta che lo leggo titolare sullo schema mi viene da mettermi le mani nei capelli cialanoglu sparisci da questa squadra non voglio vederti più via battene